Se Palermo ha esultato per il ritorno nell'oratorio di San Lorenzo della riproduzione della natività del Caravaggio, quadro trafugato nel 1969 e mai più ritrovato, Catania festeggia il restauro dell'unica copia coeva del capolavoro rubato. Si tratta del dipinto di Paolo Geraci, pittore siciliano contemporaneo di Caravaggio, che realizzò il dipinto nel 1627, mantenendo le dimensioni dell'originale. Il quadro, che per 300 anni è rimasto nel capoluogo siciliano, è giunto alle falde dell'Etna nel 1826, grazie alla donazione del presidente della Suprema Corte di Palermo, Giovan Battista Finocchiaro, che volle regalarlo al comune di Catania. Il restauro è stato promosso dal FAI sotto la tutela della sovraintendenza e si può ammirare al Castello Ursino. La collaborazione oggi dei privati nella valorizzazione del patrimonio culturale è cosa ormai importante e che dobbiamo incentivare sempre di più.